Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. È la festa del ringraziamento del 2008. La 49enne Elizabeth Palmer si sente una donna fortunata. Tutta la sua famiglia è riunita. Elizabeth è una donna piena di vita, simpatica, una persona amorevole che ama prendersi cura degli altri. A breve festeggerà il suo trentesimo anno di matrimonio con il marito, Richard. I due sono innamorati come il primo giorno. La vita della donna è serena adesso, in netto contrasto con la sua infanzia difficile. È cresciuta a Long Beach, in California, e lei e la sorella hanno subito avosi da parte del padre. La madre non solo non ha mai protetto le figlie, ma anzi le incolpava di quello che succedeva loro. Appena possibile, Elizabeth quindi se ne va di casa per cercare un lavoro e incontra l'uomo che è destinato a diventare suo compagno di vita. La donna incontra Richard quando è ancora molto giovane, ha 18 anni, mentre Richard ne ha 30, è divorziato e ha due figli. La relazione ben presto diventa seria e quindi la giovane confessa a Richard di non volere figli. La sua infanzia difficile l'ha segnata molto profondamente, ma Elizabeth non rinuncia a prendersi cura dei figli di Richard, nati dal precedente matrimonio. E in effetti i bambini ben presto si affezionano alla giovane donna, al punto che il maschietto ripete che quando crescerà le chiederà di sposarlo. Nel 1979 Richard ed Elizabeth diventano ufficialmente marito e moglie e per i successivi 30 anni il loro amore non vacilla mai. La coppia si stabilisce nella Contea di Orange, a Stanton, una delle zone più ricche della California. Conducono una vita modesta, ma sentono di non aver bisogno di nulla. Richard tratta Elizabeth come una principessa, quando escono a cena si guardano ancora teneramente negli occhi stringendosi la mano. E a loro basta questo per essere felici. Elizabeth ha un approccio alla vita molto pratico che le torna utile nel suo lavoro a Stanton presso la Golden Sun Homes, una società che vende case prefabbricate. La donna lavora per questa società immobiliare da ben 20 anni, è lei che manda avanti l'azienda e si occupa di gestire i mutui. I suoi datori di lavoro la adorano e non saprebbero come fare senza di lei. In quell'azienda a gestione familiare Elizabeth si sente a casa e va d'accordo con tutti. Il proprietario, Don Scott, il figliastro, Tracy, che fa le pulizie, e l'altro figlio di Don, Matthew, il responsabile delle vendite, che ha un rapporto particolarmente buono con lei. Matthew Scott ha 42 anni e va molto d'accordo con Elizabeth, anche perché si conoscevano da prima che lui iniziasse a lavorare lì, dato che la donna collabora con suo padre da tanto tempo. Quando non c'è molto lavoro, Elizabeth e Matthew passano il tempo facendo le parole crociate e in questo periodo in ufficio c'è molto tempo libero. Il mercato immobiliare negli anni precedenti è cresciuto, ma poi tra il 2006 e il 2008 le cose sono andate sempre peggio. La competizione è feroce e gli agenti immobiliari ricorrono ad ogni mezzo per concludere affari. Ad esempio c'è chi acquista auto di lusso per far colpo sui clienti da accompagnare negli immobili in vendita. Elizabeth in effetti ha comprato un'auto nuova anni prima, una Lexus. Tiene la macchina come un gioiello, per lei è molto importante. In un certo senso la considera un simbolo di successo e di affermazione. Elizabeth è una donna che ha superato le ferite di un'infanzia difficile e col duro lavoro è riuscita a costruirsi una vita felice con suo marito. E si è anche potuta permettere la Lexus, che per lei è un motivo d'orgoglio. Con il suo modesto stipendio Elizabeth deve risparmiare per ogni singola rata e questo rende l'auto ancora più preziosa. La mattina del 2 febbraio 2009 Richard si sveglia e prepara la colazione anche per Elizabeth, come ogni giorno. La donna di solito si sveglia una mezz'ora più tardi e inizia a prepararsi per uscire. Il marito le prepara una tazza di tè e il pranzo da portare via, poi fanno colazione insieme. È un giorno non troppo felice per Richard, è il suo ultimo giorno di lavoro, poiché è stato licenziato. Lo attende l'ultima giornata al concessionario di camper, dove fa il tecnico. Con la recessione le vendite sono calate drasticamente, per questo i proprietari hanno dovuto prendere una decisione e lasciarlo a casa. Elizabeth si dimostra amorevole con Richard, sa che la notizia che ha ricevuto lo ha rattristato. L'uomo però le dice che non deve pensarci, anzi le propone di uscire a cena proprio quella sera al ristorante Claim Jumper. Per Elizabeth invece quello è un giorno felice, spedirà la busta con l'ultimo assegno a pagamento del finanziamento che ha richiesto per l'acquisto della sua macchina. È molto contenta che dopo cinque anni di rate quella macchina sia finalmente sua. I due sono in cucina quando si salutano e Richard le promette di chiamarla durante la mattinata. Elizabeth è la prima ad arrivare a lavoro, sono le nove del mattino quando apre l'ufficio e si mette subito alla scrivania. Qualche minuto dopo arriva Matthew, il figlio del proprietario e responsabile delle vendite. Alle 10.14 Richard chiama la moglie per confermare la cena fuori. Alle 10.50 passa in ufficio la postina che ritira la posta in uscita e se ne va. Poco prima delle 11 arriva anche il proprietario dell'agenzia. Di solito Don si reca lavoro alle 10 ma quel fine settimana era stato a Palm Springs per un evento e aveva trovato traffico sulla via del ritorno, motivo per cui è arrivato un po' tardi. Quando Don entra in ufficio però nota che c'è un silenzio spettrale e l'unica cosa fuori posto sembra una pianta rovesciata a terra. Quando però si affaccia nell'ufficio di Elizabeth ad aspettarlo vede qualcosa che gli fa letteralmente gelare il sangue. Chiama immediatamente il 911, spiega di essere appena entrato nel suo ufficio e di aver trovato due persone a terra. Sono due dei suoi dipendenti ma non sa se sono vivi o morti. Matthew ed Elizabeth giacciono per terra, purtroppo, senza vita. Dopo pochi minuti dalla chiamata al 911 gli agenti arrivano sul posto. Don esce dall'ufficio ma arrivati lì gli agenti si trovano davanti a una scena per loro incomprensibile. Urlano immediatamente a Don di fermarsi e di alzare le mani che sono ricoperte di sangue. L'uomo si identifica immediatamente e spiega di essere il proprietario dell'agenzia e colui che ha chiamato il 911. Dopo aver visto che l'uomo è illeso, gli agenti iniziano a interrogarlo e gli chiedono perché si è coperto di sangue. Don spiega di aver toccato i due corpi per cercare di capire se Matthew ed Elizabeth fossero ancora vivi. Così, mentre uno degli agenti rimane fuori a parlare con Don, gli altri investigatori entrano nell'ufficio per iniziare le indagini. L'area viene messa in sicurezza e la scientifica fa i primi rilievi. Quando entrano nella sede dell'agenzia a primo impatto, si rendono conto che sembra tutto in ordine. L'orrore è evidente ai loro occhi solo dopo essere entrati nell'ufficio di Elizabeth. Lei e Matthew sono a terra in una pozza di sangue dietro la scrivania. Ci sono schizzi di sangue e materia cerebrale sulla parete dietro di loro. I due corpi sono affiancati in un angolo molto stretto dietro alla scrivania. Dalla posizione è chiaro che li hanno costretti nella stanza e fatti inginocchiare con la faccia al muro. Poi sono stati uccisi con un singolo colpo alla nuca, da una distanza molto ravvicinata. Non ci sono dubbi che siano stati uccisi proprio dove sono stati ritrovati. Gli investigatori si rendono conto di trovarsi davanti a una vera esecuzione, ma non riescono proprio a capire il motivo. Non sembra affatto l'esito di una rapina andata male perché Matthew ha in tasca il portafogli e all'interno trovano dei contanti mentre Elizabeth indossa ancora all'orologio un braccialetto e degli anelli. C'è ancora la sua borsa a terra vicino al corpo. Si capisce che qualcuno ci aveva rovistato dentro tirando fuori il portafogli. Per terra infatti trovano una banconota da 5 dollari e una piccola trusse di trucchi. Stranamente però non manca niente. Ritrovano sia la patente che la carta di credito di Elizabeth. Sembra quindi che l'assassino stesse cercando qualcosa di specifico e gli investigatori devono capire cosa e se è riuscito a trovarlo. L'arma del delitto non è presente sulla scena del crimine. Non vengono trovate tracce di DNA dell'assassino né le impronte digitali di chi ha commesso questo duplice omicidio. I poliziotti trovano due bossoli di proiettile sul pavimento. Prova che i colpi mortali sono stati esplosi da una pistola calibro 9. A parte i due bossoli l'assassino si è lasciato dietro solo i cadaveri. Quindi considerando l'assenza di indizi e la dinamica dell'omicidio gli investigatori sospettano che si tratta di un assassino professionista. È uno scenario compatibile con il mondo della criminalità e delle sostanze e mentre perquisiscono l'ufficio si rendono conto che forse c'è un testimone del delitto. Qualcuno ha lasciato la posta la mattina. Viene subito mandato un agente all'ufficio postale per scoprire chi ha fatto la consegna. Gli investigatori vogliono parlare con la postina. È possibile che abbia notato qualcosa in quell'ufficio dove passa regolarmente? Perché a parte la pianta caduta nulla sembra fuori posto. Forse le vittime non hanno reagito perché conoscevano l'assassino? Era una vendetta? E in questo caso quali dei due era il bersaglio? Forse uno dei due si è trovato lì per puro caso? Gli investigatori per dare una risposta a queste domande devono scavare nella vita delle vittime. Per ricostruire amicizie, parentele e capire se qualcuno potesse odiarli per qualsivoglia motivo. La prima persona da sentire è Don Scott che oltre ad essere il proprietario dell'azienda è il padre di una delle vittime e conosceva bene l'altra. Inoltre è stato lui a ritrovare i cadaveri. Quando la polizia cerca di ricostruire la dinamica di un omicidio spesso si concentra solo sulla persona che ha denunciato il crimine. Gli investigatori devono includere Don Scott tra i possibili sospettati ma devono anche tener conto del luogo in cui è stato commesso il delitto. Forse l'omicidio può essere legato all'azienda? Qualcuno è stato di recente licenziato e quindi poteva avere motivo di vendicarsi? C'erano dei clienti insoddisfatti o dei clienti arrabbiati? Don insiste nel dire che non ci sono mai stati problemi legati al lavoro. Gli investigatori prendono in considerazione un'altra ipotesi e chiedono all'uomo di Elizabeth. Da quanto lavorava nella sua azienda? Si trovava bene? Aveva per caso qualche nemico? Qualcuno che poteva provare rancore verso di lei? Elizabeth lavorava fianco a fianco con Matthew e conosceva da anni il suo capo, Don. Si sa, quando si lavora insieme può scoccare la scintilla e quindi possono nascere relazioni che poi, ahimè, finiscono male. Don, però, è categorico. Non c'era assolutamente nulla tra lui ed Elizabeth a parte il lavoro e agli investigatori appare sinceramente sconvolto. L'uomo ha appena trovato suo figlio e una sua dipendente di vecchia data morti negli uffici della sua azienda. È comprensibile che sia parecchio traumatizzato. Gli investigatori a questo punto escludono Don dalla lista dei sospettati, ma il suo legame personale con entrambe le vittime potrebbe aiutarli a trovare l'assassino. Quindi si riservano di contattarlo presto per fargli altre domande. Nel frattempo, dall'altra parte della città, nel concessionario di Camper, dove lavora, il marito di Elizabeth sente parlare del delitto. Non sa che la sua vita sta per cambiare per sempre. Un collega di Richard gli chiede se sua moglie lavora alla Golden Sun Homes e, quando riceve una risposta affermativa, consiglia di andare lì perché è avvenuta una sparatoria. Richard è confuso, ha parlato con sua moglie al telefono non molto tempo prima, infatti la prima cosa che fa è provare a chiamarla nuovamente al numero del suo ufficio, ma nessuno risponde. Così Richard decide di andare subito alla Golden Sun Homes. Una volta arrivato parcheggia lungo il marciapiede, poi supera i nastri e prova ad entrare nell'ufficio. Ovviamente gli agenti lo bloccano, lui esclama «Mia moglie è lì dentro!» E proprio per questo motivo gli investigatori gli dicono di non entrare. Lo bloccano fisicamente e poi iniziano a fargli delle domande. Chiedono quando ha visto per l'ultima volta sua moglie e Richard spiega di averla vista quella mattina, ma soprattutto sottolinea di aver parlato al telefono con Elizabeth alle 10 e 15 e sembrava fosse tutto ok. Poi però Richard vede degli agenti che escono con due barelle, sopra quelle barelle ci sono due corpi coperti da dei teli. L'uomo non ci crede, non sa che fare, sente la terra mancargli sotto i piedi e non riesce neanche a pensare, ha paura, è davvero sconvolto. E a questo punto è certo di una cosa, purtroppo. Non potrà mai più vedere sua moglie Elizabeth. Gli agenti comprendono il suo stato d'animo, gli mostrano la massima comprensione, ma provano a parlargli per avere delle risposte nell'immediato. Più elementi vengono raccolti e più è possibile che l'indagine prosegua rapidamente. Gli investigatori sanno che un coniuge può fornire elementi decisivi per ricostruire le circostanze di un delitto, quindi invitano Richard ad andare con loro in centrale, ma prima di farlo andare via, gli investigatori hanno un'altra domanda per lui. Sa se Elizabeth è andata per caso a lavoro in macchina quel giorno? Sì, perché gli agenti non hanno trovato le chiavi di un'auto nella borsa. Richard risponde sicuro che Elizabeth va sempre a lavoro con una Lexus e la parcheggia fuori dall'edificio, proprio davanti alla finestra del suo ufficio, perché così la può vedere. Appena l'uomo cita la Lexus, la polizia inizia a chiedersi dove sia la macchina. L'assassino quindi ha portato via una cosa sola, a parte le vite di due vittime innocenti, le chiavi dell'auto di Elizabeth. Gli agenti a questo punto diramano un avviso, stanno cercando una Lexus bianca del 2004. Sanno che, rintracciando l'auto, potrebbero trovare l'assassino di Elizabeth e Matthew. C'è solo un problema, l'auto sembra sparita nel nulla. Gli investigatori si concentrano anche su un altro possibile sospettato, ovvero il marito di Elizabeth, Richard Palmer. Dopo aver diramato la descrizione dell'auto della donna e fatto partire alle ricerche, gli investigatori portano Richard in centrale per interrogarlo. Richard chiede come sia morta sua moglie, vuole averne la certezza, ma purtroppo gli investigatori gli dicono che non possono fornirgli questo tipo di informazione. Poi chiedono a Richard come erano i rapporti con sua moglie, e lui sostiene che andassero benissimo, erano molto felici. Gli agenti però ne dubitano, devono accertarsi che davvero tutto andasse per il meglio e che l'uomo non avesse alcun motivo per uccidere sua moglie. Poi domandano se ha davvero parlato con sua moglie alle 10 e un quarto. Richard annuisce e porge all'investigatore il cellulare per mostrargli le chiamate che ha effettuato. Gli investigatori sono particolarmente interessati a come abbia passato la mattinata, gli chiedono quali siano stati i suoi spostamenti, chi avesse visto e sentito per capire se sta dicendo loro la verità. A questo punto gli domandano se possono sentire qualcuno sul posto di lavoro di Richard. L'uomo però, dispiaciuto, dice che non ha più lavoro. Quello è stato il suo ultimo giorno. Quindi il nuovo dubbio da fugare è se per caso non ci sia sotto una questione monetaria. Insomma, Richard potrebbe aver ucciso Elizabeth per risolvere eventuali suoi problemi economici? Così la domanda successiva nasce spontanea. Elizabeth aveva un'assicurazione sulla vita? Richard risponde che sì, certo, entrambi ce l'hanno. Richard quindi, avendo dei problemi economici, avrebbe per caso pensato di risolverli incassando la polizza sulla vita di sua moglie? Il beneficiario della polizza sulla vita di sua moglie era lui, mentre la beneficiaria della polizza sulla sua vita era sua moglie. Richard è il coniuge e ha un ipotetico movente. Gli investigatori quindi gli chiedono se per caso possiede un'arma. L'uomo risponde tranquillamente che sì, ne ha diverse e sono tutte sotto chiave. I poliziotti dunque chiedono se tra le sue armi c'è anche una pistola a calibro 9. È a quel punto che Richard capisce che stanno sospettando proprio di lui. Gli inquirenti devono verificare l'alibi dell'uomo. In California, è necessario dirlo, è obbligatorio denunciare tutte le armi da fuoco, quindi è possibile controllare i suoi precedenti e le armi in suo possesso. La polizia fa quindi una verifica sulle armi di Richard e una telefonata al suo ex datore di lavoro per confermare il suo alibi. Solo adesso possono escluderlo con certezza della lista dei sospettati, perché non c'è assolutamente nulla che porti a pensare a un suo coinvolgimento nell'omicidio. Gli investigatori a questo punto contattano la dipendente dell'ufficio postale per capire se può aiutarli a chiarire la sequenza degli eventi. La postina afferma di essere passata in ufficio quella mattina tra le 10.40 e le 10.50. Non solo non ha visto nulla di strano, ma racconta che in ufficio non c'era proprio nessuno. La polizia deduce quindi che Elizabeth e Matthew fossero già senza vita all'interno dell'ufficio della donna. Chiedono dunque alla postina se per caso ha visto la macchina di Elizabeth parcheggiata di fronte all'ufficio, ma lei dice di non ricordarla. La sua testimonianza conferma le versioni fornite da Don Scott e Richard Palmer. A questo punto gli investigatori pensano che il duplice omicidio sia avvenuto tra le 10.15 e le 10.50, fascia oraria in cui le vittime sono state uccise e l'auto è stata rubata. Questo significa che nell'arco di 35 minuti l'assassino è entrato e uscito dall'ufficio senza lasciare tracce e senza che nessuno lo vedesse. I poliziotti ipotizzano che il colpevole conoscesse bene gli orari dell'agenzia. L'edificio è ahimè privo di telecamere e di sorveglianza, ma la polizia spera che i movimenti dell'assassino siano stati filmati dalle telecamere della zona. Purtroppo, però, nessuna telecamera è puntata sul tratto di strada dell'agenzia, ma qualche traccia si può comunque trovare. Infatti nella contia di Orange gli autobus sono dotati di telecamere di sorveglianza per poter risalire a eventuali reati commessi. Non filmano a ciclo continuo, ma registrano dei fotogrammi a intervalli regolari. E proprio a pochi metri di distanza dall'agenzia c'è la fermata dell'autobus. Gli investigatori sanno che c'è un breve lasso di tempo tra il momento dell'omicidio e la sparizione dell'auto. Sperano di poter vedere l'assassino entrare oppure andare via. Se la polizia avrà fortuna, il filmato proverà anche se Don e Richard hanno detto la verità sui loro spostamenti. Alle 10.22 un autobus arriva alla fermata e la telecamera inquadra l'auto, che è ancora al suo posto. Dopo l'autobus se ne va e non ne passano altri fino all'arrivo della polizia. Questo vuol dire a me che non c'è nessun filmato che mostri qualcuno che entra nell'agenzia oppure che se ne va alla guida dell'auto. In mancanza di nuove piste, gli investigatori chiedono al proprietario dell'agenzia immobiliare, Don Scott, di aiutarli a trovare qualche sospettato. Gli chiedono dunque se c'è qualche persona che Matthew ed Elizabeth conoscevano e che potrebbe aiutare gli investigatori. Qualcuno a cui non hanno ancora pensato. Don si sforza ma conosce Elizabeth da 20 anni e non gli viene in mente nessuno. Per quanto riguarda invece Matthew, Don fa un nome. È una donna con cui il figlio ha avuto una relazione. L'uomo sostiene che si tratta di una persona molto instabile, con un brutto carattere e incline a bere troppo. Il suo nome è Sophie Inos. A 39 anni lavora in uno studio legale. Gli agenti si riservano di sentirla e nel frattempo domandano a Don se qualcun altro lavora alla Golden Sun Homes. All'uomo in effetti qualcuno viene anche in mente e chiede agli investigatori se per caso hanno già parlato con Tracy, il fratellastro di Matthew. Tracy fa le polizie nell'agenzia immobiliare. Non è certo il lavoro dei sogni, ma non ha trovato di meglio. La polizia sospetta che sia un tipo problematico perché frequenta delle persone dalle abitudini alquanto discutibili. Il ragazzo è un consumatore abituale di sostanzine e questo fa insospettire ulteriormente gli investigatori. È possibile che Tracy sia coinvolto? Gli agenti decidono di farlo sorvegliare e richiedono i tabulati telefonici. Nel frattempo Sophie Inos viene convocata in centrale. La donna aveva una relazione altalenante con Matthew, ma si frequentavano ancora, quindi gli inquirenti vogliono capire se è coinvolto in questa storia. Gli investigatori dicono fin da subito alla donna che hanno parlato con Don, il quale ha detto loro che lei e Matthew litigavano spesso e si lasciavano di continuo. Sophie risponde immediatamente che Don in realtà ce l'ha con lei, in quanto si vedeva con Matthew, beveva un po' troppo. Adesso però la donna sostiene di esserne uscita e di non avere più quei problemi. Sophie racconta di aver conosciuto Matthew il giorno di capodanno del 2006 e subito dopo ha deciso di lasciare suo marito. In effetti era sposata quando ha conosciuto l'uomo, ma dopo circa sette mesi ha ottenuto il divorzio. Il suo ex marito l'ha presa molto male e lui e Matthew si sono scontrati più di una volta. Sophie ammette che anche il suo ex marito perde facilmente le staffe ed è ancora geloso di lei, quindi la polizia ha un'altra pista da seguire. Fino a dove può arrivare la gelosia? Forse ad uccidere il suo rivale in amore? E anche una persona innocente che si trova lì per caso? Gli inquirenti quindi convocano in centrale l'ex marito di Sophie, ma anche questa volta non arrivano da nessuna parte, perché il giorno dell'omicidio l'uomo era fuori città. Ma c'è solo un altro possibile sospettato, Tracy Porterfield, figliastro di Don Scott e fratellastro di Matthew. La stessa Elizabeth ha parlato spesso di lui con il marito. La donna diceva che Tracy aveva dei problemi e che la famiglia lo aveva in un certo senso estromesso dagli affari dell'azienda. Il ragazzo è già sotto sorveglianza, ma ora è arrivato il momento di parlare anche con lui. Gli investigatori chiedono immediatamente al ragazzo dove fosse tra le 10 e le 11 la mattina in cui si sono verificati gli omicidi in agenzia. Tracy risponde che, come tutte le mattine, è andato a fare surf con un paio di amici. Gli inquirenti sono già in possesso dei tabulati del suo cellulare e pare che proprio quella mattina abbia fatto diverse chiamate nel lasso di tempo in cui Elizabeth e Matthew sono stati uccisi. Il ragazzo però scocciato dice che quelle chiamate con gli omicidi non c'entrano nulla e che, soprattutto, anche lui è addolorato perché teneva sia Matthew che Elizabeth. Forse Tracy non è direttamente coinvolto con gli omicidi, ma gli inquirenti sospettano che possa sapere qualcosa, nonostante lui continui a ripetere che non ha idea di chi possa aver ucciso Matt ed Elizabeth. I poliziotti però sono convinti che stia nascondendo qualcosa e decidono di cambiare tattica. Chiedono al ragazzo se è disposto a sottoporsi alla macchina della verità. E lui, in effetti, acconsente immediatamente. Il giorno fissato per il test, gli investigatori lo aspettano, ma il ragazzo non si presenta. Forse Tracy non vuole fare nomi, ma la polizia conosce la rete dei venditori di sostanzine locali. Così gli agenti iniziano a sentire le persone legate alla vendita di sostanzine in zona, ma tutte hanno un alibi. Ben presto l'indagine si trasforma in una caccia alle ombre perché all'atto pratico la polizia non trova nulla che colleghi Tracy al duplice omicidio. Le settimane diventano mesi senza che si arrivi a un arresto e tra coloro che soffrono di più per la mancanza di progressi c'è chiaramente il marito di Elizabeth, Richard. L'uomo è rimasto in un limbo per mesi, si sente perso senza la moglie. Gli investigatori decidono di ripartire dai pochi elementi certi e da quella che resta la prima pista. Tutte le altre possibili piste sono svanite durante le indagini, quindi tornano a concentrarsi sulla macchina di Elizabeth. Ma anche l'auto sembra essere l'ennesimo fantasma, nessuno l'ha più vista dal giorno degli omicidi. Gli inquirenti sono convinti però che l'auto si trovi da qualche parte, fosse nascosta e debba solo essere trovata. Ogni settimana diramano bollettine ai dipartimenti delle conte circostanti con la descrizione, per ricordare ai colleghi che trovarla è importante per la soluzione del caso. Il 24 ottobre del 2009 una di queste segnalazioni finisce nelle mani di un agente di Anaheim. Il poliziotto è al corrente del duplice omicidio e tiene gli occhi aperti, guardando attentamente tutte le Lexus che gli capita di notare in giro. Un giorno, durante il suo giro di pattuglia intorno alle 16, passa davanti all'Eldorado Inn, un motel della zona, e nota nel parcheggio proprio una Lexus bianca. Sembra dello stesso modello segnalato nel bollettino. Ha una targa provvisoria di quelle da concessionario, ma il poliziotto sa che spesso le targhe vengono contraffatte per non far riconoscere le auto dopo la rimozione delle targhe vere. L'agente dunque che fa? Prova a identificare l'auto dal numero di matricolazione del telaio, che non può essere contraffatto. Il numero di matricolazione corrisponde a quello segnalato, si tratta proprio dell'auto scomparsa, il giorno del delitto. A questo punto chiama la polizia della contea di Orange, che manda una squadra per prendere in consegna l'auto. La svolta che aspettavano da mesi è arrivata. Finalmente le indagini possono portare a dei risultati. Secondo la direzione del motel, la macchina non è stata segnalata da nessuno dei loro ospiti, ma forse qualcuno ne sa qualcosa. Si tratta di un uomo di nome Melvin Everett. Gli agenti lo portano subito nel parcheggio e l'uomo conferma di sapere a chi appartiene quella macchina. È di un certo Hilbert Thomas. Melvin spiega che Hilbert Thomas è un tipo misterioso che si presenta al motel occasionalmente senza dare spiegazioni. Qualche volta gli ha dato un passaggio proprio con quella macchina e durante uno di questi tragitti ha fatto un'ammissione sorprendente. Melvin aveva chiesto ad Hilbert come facesse ad avere un'auto così costosa. L'uomo inizialmente aveva risposto che il lavoro gli andava bene, ma poi qualche mese dopo ha ammesso che quella era un'auto rubata. Hilbert è tornato qualche giorno prima lasciando l'auto nel parcheggio come per sbarazzarsene e ha detto a Melvin di non parlarne con nessuno. Melvin in realtà non sa molto altro di Hilbert. Solo recentemente ha scoperto che ha una moglie e dei figli. L'auto rubata è un tassello importante del mosaico, ma la polizia deve ancora trovare il collegamento decisivo. Come si sono potute incrociare le vite di Elizabeth, Matthew e Hilbert? Gli investigatori devono scoprire quanto più possibile sul potenziale sospettato. Ebbene, Hilbert Thomas ha 37 anni ed è laureato. Come le vittime, l'uomo lavora nel settore immobiliare ma per un'azienda diversa che sembra non avere alcun legame con la Golden Sun Homes. È possibile che qualcuno gli abbia venduto la macchina senza dirgli che era rubata? O forse lui sapeva che era rubata ma non c'entrava nulla con gli omicidi? Gli investigatori, alla ricerca di nuovi indizi, continuano a indagare sul suo conto finché non trovano qualcosa. All'inizio pare che Hilbert sia incensurato, ma poi scoprono che sua moglie aveva richiesto un ordine restrittivo. La violenza domestica accende un riflettore su di lui e gli investigatori scoprono qualcos'altro, che fa scattare un vero segnale d'allarme. Hilbert si era presentato spontaneamente alla centrale di polizia il 26 ottobre mostrando agli agenti il suo documento. Poi aveva consegnato una pistola dicendo, ho ricevuto un ordine restrittivo e per legge non posso avere un'arma. L'arma consegnata da Hilbert è una pistola semi-automatica calibro 9, identica a quella usata negli omicidi, che viene immediatamente inviata in laboratorio per un confronto con i bossoli trovati sulla scena del crimine. Gli investigatori sono cauti. È quantomeno assurdo che l'assassino abbia consegnato di sua volontà l'arma del delitto. Gli esami balistici però mostrano che la pistola che Hilbert ha consegnato al dipartimento di polizia il 26 ottobre è la stessa pistola usata il 2 febbraio per assassinare Elizabeth e Matthew. Ma perché li avrebbe uccisi? Cos'altro collega Hilbert alle due vittime, a parte l'autorubata? È una risposta che solo lui può dare. Il 28 ottobre 2009 Hilbert Thomas viene arrestato con l'accusa di aver ucciso Elizabeth Palmer e Matthew Scott e si dichiara non colpevole. Il processo contro Hilbert Thomas si apre nel gennaio del 2014 e l'imputato non testimonia, avvalendosi della facoltà di non rispondere. La pubblica accusa deve ricostruire il caso solo sulla base delle testimonianze di familiari e conoscenti. Tutto inizia qualche anno prima, quando la vita di Hilbert va letteralmente a rotoli. Vero, aveva una moglie e due figli, frequentava regolarmente la chiesa, ma ad un certo punto il matrimonio è entrato in crisi. Trattava male la moglie e la storia è finita con un divorzio. Come se non bastasse, aveva anche problemi nel suo lavoro di agente immobiliare. Il mercato immobiliare, come già vi ho detto, in effetti era andato a fondo in quel periodo. Era passato più di un anno senza che la sua agenzia riuscisse a concludere una sola vendita. Ed è dura se si guadagna soprattutto dalle provvigioni. Tutti gli altri agenti immobiliari avevano belle auto, facevano bella figura. Lui invece era l'unico che andava a lavoro in autobus e questo non aiutava molto alle sue vendite. All'epoca Hilbert viveva da sua sorella a Garden Gove, poco distante dalla sede della Golden Sun Homes. E ogni giorno vedeva la Lexus bianca e lucente, parcheggiata lì davanti. Quella macchina diventa una vera e propria ossessione per lui, un simbolo della vita che aveva prima e che ora gli stava sfuggendo. Arrivò a non riuscire a pensare ad altro che a quell'auto. Hilbert tra l'altro ne era certo, se l'avesse avuta tutto il resto sarebbe andato a posto. Era un'attrazione perversa quella. La mattina del 2 febbraio Elizabeth parcheggia a Comi ogni giorno la sua Lexus davanti all'agenzia e Hilbert passa all'azione. L'uomo arriva, sfodera la sua pistola e decide di entrare nell'agenzia. Dentro trova due persone ma Hilbert vuole solo la macchina, per questo è pronto ad eliminare ogni singolo testimone. Onestamente non riesco a comprendere come si possano uccidere due persone per una macchina. Hilbert dopo l'omicidio prende le chiavi dell'auto, si mette al volante e va al lavoro, come se nulla fosse. È sorprendente come questo assassino non abbia lasciato nessuna traccia di sé sulla scena del crimine. L'auto dei sogni comunque, sorpresa sorpresa, non cambia la vita di Hilbert, che anzi va sempre peggio. Aveva riposto tutte le speranze in quell'auto e invece non era cambiato nulla. Anzi, gli affari peggioravano ogni giorno di più e sua moglie non era tornata con lui. La spirale discendente non si fermava. Sono stati solo la prontezza di un agente e la determinazione incrollabile degli investigatori a permettere di ritrovare l'auto. Non c'era altro che collegasse Hilbert alle vittime e il caso rischiava di rimanere risolto. Dopo solo quattro ore in camera di consiglio, la giuria dichiara Hilbert Thomas colpevole di omicidio di primo grado e furto aggravato. Il 13 giugno del 2014 è condannato alla pena capitale ed è rinchiuso nel braccio della morte nella prigione statale di San Quentin, San Francisco Bay Area, California. Detto questo ragazzi ho finito di parlare di questo caso. Questo caso, onestamente, l'ho trovato assurdo proprio perché questa persona ha ucciso due esseri umani per rubare una macchina. Ed era convinto che con quella macchina la sua vita sarebbe ritornata a quella di prima. Trovo sia davvero assurdo, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso. Come al solito ci becchiamo nei commenti perché vi leggo tutti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!